Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio di Murder Ci troviamo qui con Tearless, Marci, Marco, We Allora ragazzi abbiamo un problema, l'altra volta vi abbiamo posto una sfida di like E a tot like che ci siamo arrivati, dovevo fare un video di 15 minuti e 23 secondi precisi Quindi ragazzi ci proverò a fare il video preciso di questa durata Se non ci arriverò metterò alla fine un'immagine di arambe E se ci riesco ovviamente dovete lasciare un like perché ragazzi io le promesse le mantengo 15.097 like, Eren farà un video di Murder Grande, grande Non so, non so se posso fare, io davvero provateci ma non so se posso fare una cosa del genere Non so se, vabbè, ragazzi ci proveremo, comunque ci vediamo in partita Bella Oh raga chi sono? Raga sono veloce Non vi dico nemmeno chi sono perché raga ormai Ah Rugen Esatto Allora veloce Veloce e speed Eh io potrei Ma ci sono due speed Ci sono speed Speedy Speedy e speedpro c'è Infatti ce ne sono due Io sono Io sono Man Io sono Man Man Eh Man Ho visto pure il Murder Ora camper È grande È grande Davvero un simbolo di Dopo premio sportività c'è il primo Premio camper attività Allora qua Mamma mia Uccidere tutti i su temple Deve essere una roba atroce da fare L'ha fatto prima Marce l'ha fatto ma E almeno non camperavano nell'acqua Ma stanno camperando nell'acqua scusa Ciao Arugian Ciao Arugian Ma vai a cagare Ciao Arugian Ciao Arugian Salutami l'inferno Arugian Ciao ciao Hai ucciso Tre persone su tre E siamo noi tre Sì E siamo noi tre Vi ho levati da il cazzo Adesso ditemi dove No ditemi niente Grande tier Però già vedo Vedo i camping estremi Da qualche parte in giro Raga è bella sta piramide Wow uno ha ucciso un altro Oh mio dio Grazie Simo Ma aspetta Ma me ne mancano tre Quattro O tre Siamo in quattro Sì Quindi quando segna tre Vuol dire Che ne mancano tre Ok giusto Ma tanto Non ce la posso fare Neanche con il potere di Arugian A batterli tutti Perché saranno tutti camperati Là fuori sicuro Oh mio dio Il potere di Arugian era mio Già abbastanza dico Sono tutti camperati Vero Abbastanza Allora guarda Devo trovare un modo per È il camperato Io ti dico dove Ah pensa Giusto Li sta bene Ma che cazzo Hai visto Marci No vabbè ma così non si gioca Dai dov'è camperato Facciamo le merda anche noi Vediamo dov'è Ma no ma se schimo Se vuoi ti dico cosa è successo Cosa è successo Sono tutti camperati Tutte e tre Con tre zappe Oddio è vero Stanno dividendo un po' Sono fuori Ma dov'è il tunnel Avanti Avanti Vai in quella direzione Ok lo vedo Provo a seguirli lì dentro Vai 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 Uno sta venendo dalla tua parte Simo Simo occhio Simo Ma mi sta seguendo da dietro Non ho capito Dietro Ragazzi io dico che è giusto Aiutarle in questa occasione No ma è giusto Sono in tre con una zappa in mano Che si rifanno il trenino No ho sparato per sbaglio No Raga mi hanno sentito Io in realtà ti posso dire una cosa Quanti smeraldi hai? Ora non ti aiuto qui Simo Però ti dico solo che Uno non ha la zappa E l'altro si No No raga E appena detto non ti aiuto più Era dietro l'angolo camperato Sta merda Raga io ho un problema E la testa funziona a metà Ho un nome che Che mi obbliga ad andare sempre a destra Ragazzi io sono Una charlinistica Devo fare una challenge Devo svoltare sempre a destra Per tutta la partita Non so se Ce la farò Non avete capito chi sono raga Io sono subito così con la zappa Raga ho un problema C'è uno che mi guarda male Ma io devo andare a destra per forza E vai a destra I'm destro I'm destro Non riesco uscirne Continua a girare a destra Finchè la destra non diventa una destra Simo muore adesso Non so se ho capito Sì infatti Sì ma Io potevo solo girare a destra Cosa devo fare? Raga mi sento di poter Marderare tutti Io sono uno squagge Cosa sei? Squagge Ma Io sono Oh raga io sono l'evoluzione di Free Alley Mh Pelle Ai Cosa è? Blisali 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 Io sono Sono uno con un nome leggermente lungo Io vedo una persona camperata Con la zappa Non mi sparare Crettino Mi spara Sto solo camminando Sì ma raga qua non vale Continuano a sparare Tra l'altro guarda chi era Guarda chi era Era Marco Che cazzo mi spari? Marco sta continuando a scrivere in chat Dubito c'è Marco Ah ok Raga io sto per uccidere Gabe No povero Gabe Mi spiace Steam users Mi spiace Steam users Sento Blisali ha appena shotato qualcuno al caso È grande È Marco Blisali raga Raga l'abbiamo insultato in ogni modo Scusa Marci È un deficiente Ma anch'io prima l'ho insultato Mi stava sparando a caso Eh frate scusami Raga Oh l'ho visto Jun 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 Giù Giù È una 2000 Raga che ne sa le 2000 Ma come una 2000 È una del Mardere una 2000 Il Mardere una 2000 Mi stende però Cazzo di minorenne o Ma che minorenne Sei proprio una 2000 Sei un minorato Altro che minorenne Entra Ma sei morto Raga ho un nome marderoso Raga sono una 2002 Io sono happy Ma figa ma basta Sono una 2002 Mi stende Aspetta dopo la 2000 Stitch is B Tearless è una 2002 Siamo proprio Siamo sotto ogni limite di età possibile Incredibile 2002 sono gli anni di carcere che ti danno Esatto Tecnicamente 2002 Sei a malapena legalmente Non voglio dire Non voglio dire quel termine Non voglio dire quel termine Esatto Ma 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 Chi viene a saperlo il padre Sti cazzi non è più consenso Cioè Non è più consenso Che bei discorsi ragazzi Che bello ragazzi Facciamo un'emozione unica Raga Nei commenti Diteci il vostro anno Anno di nascita L'anno di leva si dice Ecco Tanto è stata una partita così Diteci il nostro anno di leva Il nostro Il vostro Il nostro anche Sono entrato con la Secret Wopen Pesante La Secret Wopen sei dentro? La Secret Wopen raga Non la conoscete La Wopen La Wopen La Wopen Ma raga Ma mi sono reso conosco Che ho un attimino Raga c'ho il Marder davanti Io sono un famosissimo calciatore raga Ma perché? E' anche un papornatore Rolando Rolando Raga ma Ho filato tre volte Il La Secret Wopen E lui continuava a correre Non mi faceva niente Però era il Marder L'ho ucciso Bravo Simo Bravo Simo Raga sono Thunder Cam Vuol dire che faccio le cose Cam Raga io sfido Ogni limite Possibile dell'età E sono un 2112 Madonna Simo Vengo dal futuro Vengo dal futuro Per portarvi La canzone del futuro Che ne sanno Dal futuro Che ne sanno i 2120 Ma sapete che Aaron non sa chi è Phil del futuro? Ma no Io non l'ho mai visto Non l'ho mai visto Phil del futuro Raga Ma che schifo Raga oddio ho visto Ho visto il Marder Posso dire? Posso dire? Se sei vivo E' uno blu Scuro Non so chi dei due E sarà Cold Milk Secondo me è Cold Milk No aspetta No aspetta No non lo so raga E' un blu scuro Aveva il mantello? Comunque c'è un pot sbardato Che cazzo ne so E' un blu scuro Dai non dimmi queste cose Che già c'è l'un blu scuro Oh l'ho visto Che blu è già troppo Ecco Raga Allora Scusate un attimo Io sono Grasso Sono grassa Pigra E la ragazza scoreggiona Fat lazy fart Io non ho più parole Ma che cazzo nome è? Ma non lo so Non lo so Non guardarmi che ha un nome orrendo Fat lazy fart girl Fat lazy fart girl Cioè è una filastrocchia Devastante Non sciogli lingua Grazie grazie Di avermi ucciso Perché mi vergognavo Di me stesso Finito male Anomalo Epico Raga Io ho una visione Del mondo tutta mia Wow Raga Scheglia il marder Scheglia il marder No Se un po' Io lì babà Mi hanno fatto un ucciso Sì No raga Io ho bisogno di un Di un smeraldo Perché ti hanno tirato Un calcio nelle balle No mi hanno ucciso Arugian Levati dalle palle Arugian Arugian Chi è il marder Secondo me è Scheglia Arugian Scheglia Non è Arugian frate Mi sta continuando a fottere gli smeraldi Vorrei ma non posso Epico Epico Ciao Marco Me ne vado da te Non mi fido L'ho visto C'è un cadavere L'ho visto L'ho visto L'ho visto Guarda lì ci sono due persone No c'è Arugian con la zappa Che mi segue No no Mi segue Arugian con la zappa Ho paura di Arugian con la zappa Se vuole vendicare Dell'altra volta Se vuole vendicare Dell'altra volta Sì ma se sei Arugian Potrei Sacco di merda Mi ha puntato Di smeraldi infatti Boh ho sparato uno a caso Non mi interessa Non capisco più niente No Oh Ho pensato qualcuno morire Ma rega che cazzo c'è No Ho ripreso la weapon Non mi sparare Arugian sono io No 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 Dammi la weapon Dammi la weapon Dammi la weapon No No dai raga Mi sono rotto il cazzo Dai Ma vaffanculo Dai È un amico malocchino Che ti insegnò solo parole Roxy and Roxy Ah la zappa C'è un altro con la zappa La ok Io sto seguendo Sto seguendo due zappati L'ignorante squad siamo Ciao ciao Arugian Ciao Arugian Marco ma tu sei morto Siamo il team Arugian Andiamo Siamo il team Arugian Marco allora Incominciate ad entrare anche te Gali Raga c'è C'è summer soldier Ah no la zappa Ragazzi ma perca Oddio eccolo Eccolo raga Oddio 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 Mi spiegate perca sotto la mappa Ci sono dei letti No no raga Vai uomo No raga No raga È impossibile prenderlo Era impossibile E anche per me è stato impossibile No è impossibile sparare a uno che fa così C'è C'è il ritardo nell'arma Raga io Comunque volevo dire ai miei iscritti un attimo Che non sarà Cioè questo sarà l'ultimo episodio di Marder Di Marder Addio Marder Perché lo sostituirò con una serie che si chiama Earthcraft Spero che vi farà piacere No serie sono serie raga Ma lui ragazzi è una cosa subliminale per dirci che è Earthcraft No raga sono serio È il blu È il blu È il blu È il blu Cazzo tia Non vedi che sono verde Sono verde Fumo la mia scusa mi dende La squadra è in attacco qua Anche io voglio la weapon Anche io voglio la weapon Cosa frate Vuoi sapere chi è il Marder raga Ditemi da per favore Vuoi sapere chi è il Marder Allora il Marder è green person Troma è un cazzo Mi spiegati perché Mi sa che c'è azzeccato Davvero? Ce lo dici proprio così Ah ma non sono io Ce lo dici proprio così Rega io sono host in infinito Ah ci dici proprio così Sì 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 Io tu pensi che gli stanzialisi Adesso si Adesso si Adesso si Adesso si Adesso si Adesso si No No Mamma mia come ho killato Marci Sucala T'è la tua secret weapon Oh raga i potenti Anche Non scorre nero Mamma mia Mamma mia Che ho fatto Raga i like Arrosticini I like Marco mi sei passato davanti I like No 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 non è andata così Guardate bene Non è possibile Raga Non è andata così Guardate Guardate bene Vi ho killato io Guardate la chat Simo Mi hai lisciato con la spada Un certo punto Ho preso la zappa Mi stavo girando E' andata bene Che mi hai ucciso Perché se no guarda Ti è andata bene Cazzo Cazzo che impresa Guardalo qui Guardali tutti Vaffanculo Mi stanno seguendo 3000 Oddio Oddio No Stavo facendo una figata assurda Ne mancava uno raga Era l'ultimo Quindi ragazzi Questo era il video Di murder Della settimana Il potere di Harujan È servito Sì e no Quest'oggi Però vabbè Sono tutti stupidi Ragazzi Questo video durerà esattamente 15 minuti 23 No In realtà la challenge Era 15 minuti 27 secondi Non 23 Quindi lo faremo Di 27 secondi Ci stiamo avvicinando Al finale Quindi direi Che è arrivato il momento Di salutarci Così lasciamo anche Un po' di spazio Ad Arambe Un saluto Ere blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti